Il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, ha firmato l'ordinanza di chiusura e di sgombero a Doras per il centro di accoglienza migranti situato ad Alvanella. Un atto dovuto minato a garantire la disinfestazione degli ambienti e il provvedimento se resto necessario dopo l'intervento della Prefettura. Il sovraluogo effettuato dai tecnici dell'ASL e di Palazzo di Governo, presso i locali che ospitano circa 100 migranti, ha evidenziato una serie di problemi di carattere igienico o sanitario, un potenziale rischio infezione, quello rilevato all'interno della struttura degli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e da nucleo ispettivo della Prefettura impegnati nel monitoraggio dei centri di accoglienza in Irpinia. Lo stabile in passato era già stato chiuso dalle autorità in piena emergenza migranti e poi riaperto attraverso un intervento di manutenzione assicurato dall'azienda Petrilli che aveva preso in gestione il centro di Alvanella, un centro che grazie all'impegno della associazione New Thing, era diventato anche sede di corsi di formazione e aggregazione per i migranti. Ora è corsa contro il tempo per recuperare con urgenza una nuova sistemazione agli ospiti avvisati di sfratto, un trasloco che diventa difficile considerando le condizioni di sovrappollamento in cui giacciono in Irpinia e strutture adibite all'accoglienza. Il sindaco Giordano e la Prefettura assicurano che nonostante i disagi e le anomalie contestate si cercherà di evitare lo sgombero garantendo un graduale trasferimento degli ospiti presso altri locali. Grazie a tutti.